Bentornati amici con i video del paranormale del sabato. In tutto il mondo succedono cose strane e inspiegabili. Il più delle volte questi fenomeni possono essere spiegati in modo semplice e razionale. Altre volte invece non si riesce a trovare nessuna spiegazione per tali eventi. I filmati che vedrai oggi mostrano alcuni fenomeni che la scienza attuale non è tuttora in grado di riuscire a spiegare. Prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo cominciamo. Il primo filmato mostra una stanza, esattamente e una sala da pranzo. Dove c'è un televisore e un piccolo caminetto vicino al muro sulla destra. Il proprietario di questo appartamento non è in casa. Dopo qualche ora che l'uomo è andato via succede davvero di tutto. Alcuni oggetti incominciano a cadere senza che nessuno li abbia toccati. Altri invece vengono spostati da una forza invisibile. Nel secondo filmato viene mostrata una donna che sta scendendo le scale di un condominio. La stessa donna viene ripresa da una telecamera di sicurezza. Proprio mentre la donna sta per fare gli ultimi scalini. Una strana ombra si manifesta proprio davanti alla donna. La donna nota quest'essere che si è materializzato proprio davanti a lei. Si gira di scatto e fugge via. Nel terzo filmato viene mostrato l'ingresso di un hotel. Alcune persone stanno attraversando la porta in vetro girevole. Sembrerebbe tutto normale. Se non fosse per ciò che succede dopo. Un vetro della porta va in mille pezzi. Se notiamo bene dall'immagine il rallentatore. Uno degli spigoli delle quattro porte di vetro viene piegato da una forza invisibile mandando in frantumi il vetro della porta. Questo ragazzo sta tranquillamente dormendo nella sua stanza quando lo scoccare della mezzanotte. La luce del bagno si accende da sola. Dopo di ciò si sente il rubinetto nel lavandino che viene aperto. Il ragazzo ha il sonno profondo e non si accorge di nulla e continua a dormire. Il giorno dopo dopo aver rivisto i filmati il ragazzo è rimasto scioccato per quello che è accaduto. Credo che rimarrà ancora più traumatizzato quando gli arriverà la prima bolletta della luce. Il video ragazzi finisce qui. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao. Ciao.